Ciao, sono Silvia e tu è benvenuto in questo video che è dedicato a un singolo esercizio di Pilates che si chiama Rolling Like Go, rotola come una palla. È da un movimento estremamente divertente, sfidante e che mi piace un sacco insegnare che necessita però di una piccola spiegazione un pochino più approfondita, giusto per capire quali sono i movimenti che devo, la muscolatura che devo attivare, che tipo di movimento devo fare, che preparazione devo fare, quindi gli dedichiamo un po' di attenzione. Allora, partiamo con i piedi bene in parallelo, seduto sugli ischi e vai a cercare una piccola retroversione del bacino, quindi dagli ischi ti sposti in acquaggio sull'osso sacro. Stacca una gamba, portala a tavolino, stacca anche l'altra, portala a tavolino. Le mani, idealmente le mani non si attaccheranno sulle gambe, ma possiamo fare una versione propedeutica in cui agganciamo le mani sulle gambe o qua sopra, sulle tibie, oppure sotto le cosce. In ogni caso, questa posizione non deve cambiare, quindi non devo vedere che stai facendo questo o che stai facendo questo, quindi la posizione deve rimanere il più possibile uguale a se stessa. Da qui, pensa di ispirare andando ad aumentare la retroversione del bacino, quindi la sensazione deve essere forte ancora più indietro l'ombelico verso la colonna, inspiro, vado giù ed espira, ritorna e rimani in equilibrio, inspira, ombelico alla colonna, scendi e risali, quando vai giù cerchi di non appoggiare mai la testa ma di rimanere in appoggio sulle scapole e quando sali usa gli addominali, inspira ed espira, torna su e cerca di rimanere in equilibrio, quindi devi riuscire a rimanere qui senza cadere indietro di nuovo, quindi sei tu che decidi quando scendere e quando tornare su. Facciamone ancora un paio, inspira ed espira, quando te la senti, se te la senti prova a portare le mani a sfiorare delicatamente le tue gambe dall'esterno, inspira, scendi ed espira e risali, giusto per farti capire non devo fare questo, quindi non devo allungare le mie gambe quando torno, non devo fare questo, non è la testa che mi porta indietro, ma è l'ombelico alla colonna, quindi lo sguardo rimane sempre più o meno verso le tue gambe, inspira, scendi, adesso ritorna su e ancora inspira, adesso risali e riappoggia. È un esercizio molto divertente che massaggia un pochino anche la schiena, quindi puoi inserirlo all'interno di qualsiasi pratica, in un momento ti viene in mente di fare il roll like a ball e semplicemente preparati in posizione e fai questo esercizio. Grazie mille per avermi seguita, alla prossima, ciao!